un cordiale saluto buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi siamo al 25 settembre 2020 tra tre mesi e natale mettiamo intanto le mani avanti insomma tanto così per dire e cominciamo subito con il santo del giorno lo vediamo insieme al cartello san firmino oggi il sole è sorto alle 7 0 1 e anzi sorgerà a questo punto che noi siamo arrivati un po prima 7 0 1 e tramonterà le 19 0 3 andiamo a vedere il tempo il tempo per oggi secondo il bollettino della protezione cime delle marche come vedete dalla grafica sarà perturbato avremo rovescio temporali sparsi specie tra la mattinata e le ore pomeridiane informazione nelle zone interne poi verso la costa localmente fenomeni potranno risultare anche di forte intensità possibili nevicate addirittura sulle cime più alte dei monti sibillini la giornata di domani invece sabato 26 si aprirà con un cielo irregolarmente nuvoloso avremo ancora domani locali rovesci nelle zone interne in serata possibilità di fenomeni anche lungo la costa per quanto riguarda domenica 27 il tempo sarà ancora parzialmente nuvoloso e non si escludono locali brevi fenomeni nel settore meridionale della regione ancora instabilità atmosferica anche nella giornata di lunedì poi arriverà e tornerà il tempo stabile attenzione ai venti che comunque soffieranno soprattutto sabato forti lungo la costa dai quadranti settentrionali e adesso andiamo a leggere i giornali apriamo il resto del carlino questa è la prima pagina all'edizione di pesero la fotonotizia prigioniero in casa mia malato di sla si batte contro le barriere architettoniche virus pronti per il secondo picco asur la strategia per la guerra d'autunno scuola un'altra classe va in quarantena questo è il terzo caso ieri il patrono san terenzio a pesero le parole dell'arcivescovo coccia la comunità ha dato prova di forza agli orti giuli invece sempre a pesero trovato morto storico commerciante si parla anche di viabilità tre rotatorie promosse fumata grigia per altre sempre a pesero affano invece lite degenera un uomo di 57 anni aggredito con una con una pietra e poi la politica di spalla qui a destra incontro tra salvini acquaroli assessori esterni non sono esclusi l'intervista palmirucchielli sindaco di valle foglia ragioniamo sulla sconfitta e ripartiamo qui sotto di taglio basso addio debutto in serie c c'è lo sciopero infatti vi se fanno con gli scarpini incrociati oggi la decisione ufficiale sul rinvio basket vl debutto inchiodato su 200 tifosi limitazioni sugli spalti svolta improbabile ario costa dice iniziamo a fare sul serio adesso il corriere adriatico hangar 278 giorni all'alba i lavori al vecchio palace di pesero partiti a gennaio 2018 ma per belloni questa volta ci siamo finiti per il 30 giugno 2021 assicura avanti con la demolizione della copertura bonificata dall'amianto il comune vuole intercettare altri fondi toto giunta avanti con lo schema 3 2 1 fratelli d'italia mette i paletti alla lega calma dice salvini a castelfidardo ora modello parcaroli e poi occhielli che spiega la strategia vitri pd così si vince la morani arrottama gostoli via tutti i via tutti e nuovi vertici bimba positiva al tampone altra classe in quarantena terzo caso da qual'anno dopo petriano ed urbagna l'area vasta impegnata a tracciare tutti i contatti e qui la tragedia chiama che si è consumata agli orti giuli chiama il 118 e poi si spara ma anche questa mattina vogliamo iniziare la nostra rassegna stampa andando a jesi semplicemente per il day after la notizia del barbone che è diventato paperone quell'uomo che faceva le chiedeva le lemosine al semaforo e che poi invece ha grattato un grattino di 5 euro ha vinto 300 ne ha vinti 300 mila allora andiamo a vedere così cominciamo un po così sognando questa nuova giornata che ci attende il mendicante ora milionario mi compro mutande e scarpe questo è il titolo questa storia dice a sarà ferreri la giornalista che lo ha intervistato intanto lo vedete qui nelle fotografie prima con la barba mentre fa i suoi show tra le macchine ferme al semaforo e dopo sbarbato ripulito non che prima non lo fosse nel senso ripulito in senso metaforico questa storia mi ha insegnato che se uno ci crede e si comporta bene prima o poi il bene ritorna non bisogna mai arrendersi questa è una frase da scrivere bene e che qualcuno si deve probabilmente ricordare ogni giorno mi ha insegnato che se uno ci crede si comporta bene prima o poi il bene ritorna insomma la vita gli è cambiata perché appunto ha vinto 300 mila euro a dire il vero 240 mila perché insomma 60 mila se le sono presi poi ripresi lo stato con le tasse e comunque pellonara questo è il cognome di tiziano l'uomo che appunto è diventato comunque adesso benestante lui dice alla domanda come ha speso i primi soldi lui ha risposto per comprarmi i pantaloni perché li portavo da tre anni ed erano rotti ho speso 100 euro ma sono strappati mi hanno detto che è la moda ho comprato anche un pigiama le mutande una cinta e le scarpe nuove non le acquistavo più da tre anni e poi mi sono tagliato barbe e capelli ho preso anche un orecchino giocava spesso al gratte vinci risponde lui no ne avrò presi circa una ventina in due anni e cosa sogna di fare ora non penso alla ferrari o cose strabilianti a me basta un caffè una cena con gli amici una giornata al mare ho 60 anni aspetto la pensione tra sette tra sette anni e sentite come ricorda quel 16 agosto perché il 16 agosto il giorno in cui ha grattato era domenica mezzogiorno avevo 7 euro due per le sigarette e cinque per il gratte vinci ho inserito la tessera sanitaria nella macchinetta e come sempre faccio l'ho corteggiata ha detto alla macchinetta ti voglio bene e lei ha risposto anche io ed è stato amore a prima vista anche se in realtà l'ho grattato a mezzanotte a casa come ero abituato a fare mi sono sdraiato a letto ho grattato con la luce del cellulare ho passato tutta la notte a verificare che quel 12 fosse realmente un 12 e che gli zeri fossero giusti 30 e 300 euro in effetti non c'erano come premi e dunque ha realizzato che erano 300 mila e dunque poi dopo la mattina è andato è andato in banca il cassiere della banca l'ha guardato e lui gli ha detto dai chiama il portavalori e apriamo un conto corrente e poi dopo 32 giorni sono arrivati i soldi ha giocato ancora lui dice no non lo farò più non giocherò più al grattevinci il primo amore non si scorda mai poi c'è un'intervista alla mamma la mamma rosa di tiziano che ha 88 anni e che parla del periodo del lockdown che è stato davvero duro la seconda pagina invece del resto del carlino parla parlano le due titolari insomma della tabaccheria che ha questo questo grattevinci lì nelle macchinette dice noi i due angeli custodi di tiziano qui posano insieme a lui con con il grattevinci che 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 l'ha portato appunto a cambiare vita e poi questa sera una cena per ringraziare chi l'ha aiutato chi sono gli invitati i negozianti da baccai ma anche il parrucchiere e questa era la prima la copertina diciamo così della nostra segna stampa adesso la politica salvini incontra subito acquaroli assessori solo chi è competente leader della lega ieri a castelfidardo dopo la vittoria del nuovo governatore di fratelli d'italia essere il primo partito in consiglio regionale è una gioia ma ora dobbiamo lavorare il doppio la giunta regionale rimarrà a sei quindi sei assessori e potrebbero entrare anche degli esterni forse qui il riferimento potrebbe essere già al sindaco di colli al metà lo stefano guzzi che come sapete non è riuscito ad entrare nonostante la ottima performance personale 3500 voti circa quindi diciamo che tra l'altro oggi o domani dovrebbero incontrare dovrebbero incontrarsi acquaroli e da guzzi e quindi sapremo poi se il presidente il neopresidente offrirà al sindaco di colli al metauro un posto in giunta il pd invece a pezzi gioca a nascondino e la morana insiste nuovi vertici dieci giorni per attendere il ballottaggio di senigallia si vuole evitare in qualche modo che questa questo ballottaggio a senigallia per eleggere il nuovo sindaco diventi l'ago della bilancia insomma la rese dei conti con calma il però gostoli non cederà così facilmente la leadership del partito peraltro il sindaco di pesaro riccia già blindato gostoli si parla di marchetti però e l'idea di ceriscioli ventilata martedì potrebbe avere un senso mentre la morani su facebook dice una vera propria disfatta dopo 25 anni di governo del centro sinistra è necessario conclude mettere in campo un nuovo gruppo dirigente persone capaci di immaginare un nuovo modello di sviluppo per le marche e adesso la pagina di vale foglia perché in tutta questa storia delle elezioni c'è anche un vincitore che non ha partecipato alla competizione elettorale e il vincitore lo possiamo dire tranquillamente ha un nome un cognome palmiro ucchielli sindaco di valle foglia dice adesso noi come fanno esigiamo gli stessi servizi e poi parla della vittoria di micaela vitri una collega una giornalista che trainata evidentemente anche da biancani così come appoggiata da non solo da ricci ma anche da ucchielli e insomma è riuscita ad ottenere più di 5 mila voti un successone insomma ucchielli ringiovanisce elezione dopo elezione e piazza la pennellata d'autore nonostante la storica caduta del pd valle foglia per la prima volta avrà seppur in minoranza una rappresentante in consiglio regionale da lui la scelta da lui scelta e spinta alla vittoria e questa candidata è appunto questa consigliera è micaela vitri merito dice ucchielli di un grande lavoro di squadra e valle foglia farà sentire la propria voce in regione adesso invece lasciamo la politica parliamo del coronavirus tutti quanti sappiamo quello che sta succedendo intorno attorno all'italia i paesi che sono attorno a noi che non se la stanno passando bene l'italia ancora è assolutamente sotto controllo continuiamo a mantenere la calma e a fare quello che dobbiamo fare ovvero distanziamento mascherine virus ecco la guerra d'autunno ma un'altra classe va in quarantena è un si tratta di un'altra classe elementare dopo quella di urbania di lunedì scorso e di petriano martedì questa volta è toccata ad una quarta della primaria enrico mattei di acqualagno una bambina di 9 anni è risultata positiva il covid è in isolamento da ieri mattina tutti i compagni di classe e le insegnanti lo stesso circa una circa 25 persone intanto nelle marche si registra una nuova vittima abbiamo detto che si tratta di una anziana la vediamo qui nelle pagine di ascoli rosa fedeli aveva 86 anni per gli ascolani è un pezzo di storia rocca fluvione per essere più precisi il paese piange la ristoratrice vogliamo ricordarla nei momenti allegri aveva tante virtù umane ed era generosa la situazione precipitata venerdì le sue condizioni non preoccupavano poi all'improvviso c'è stato questo peggioramento però ecco ripeto anche in questo caso come abbiamo già ricordato la signora aveva anche delle patologie pregresse quindi il tutto è peggiorato e precipitato anche per questo motivo quindi trasporto studenti sempre relativamente all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo i mezzi di adriobus non sono in overbooking il direttore benedetti ha avviato un monitoraggio su capienza e passaggi ragazzi appiedati sulla tratta fano pesero beh è stato solo un malinteso agosto li appelli senza risposte ceriscioli avrà un futuro politico regionale sulle regionali mechelli maggioranza con gambine sostenuto mangelardi il pd il suo 5 per cento è nostro ma sulla pagina di urbino siamo per questa notizia di cronaca schianto moto auto centaro un centauro portato a torrettele lì soccorso atterrato vicino alla statale 73 di urbania sotto shock chi era al volante e praticamente è successo ieri intorno alle 8 dove è stato a causa di uno scan schianto tra una fiat panda condotta da un uomo di 85 anni rimasto letteralmente sotto shock ed una moto malaguti di grossa cilindrata condotta da un uomo di 58 anni c'è stato questo scontro e poi il centauro è finito all'ospedale una via dedicata invece al fondatore della schnell lo vedete in questa immagine il compianto alessandro rupoli fondatore di questa importante azienda società per azione azienda con sede a san liberio nel municipio di monte maggiore e al fondatore della schnell la l'amministrazione di colli a metauro dedicherà questa mattina una via appunto ad alessandro ruppo illuminato l'imprenditore fanese fondatore della schnell leader a livello nazionale della produzione di macchine per la lavorazione del ferro da cemento armato spentosi a 96 anni il 10 luglio del 2019 la cerimonia di intitolazione si trà questa mattina alle ore 9 e 30 chiama il 118 venite agli orti giuli poi si uccide con un colpo di pistola il corpo del novantenne ritrovato all'ingresso del parco pochi minuti prima aveva incontrato l'ignaro nipote e ne parla anche scrive il resto del carlino trovato morto storico commerciante addio a egidio fabbri molto noto per la rivendita di tessuti in via belvedere aveva 90 anni spesso era in prima linea contro il degrado in centro storico ricorderete ieri vi abbiamo fatto vedere sempre qui in rassegna stampa questa fotografia che è una foto una foto della cena con l'immagine però di benito mussolini sullo sfondo vedete in questa l'unico che non è stato bollinato e quindi c'è questa cena che neggi al duce e adesso c'è anche un esposto in procura il consigliere massimo bello su facebook aveva commentato a questa foto aveva detto era scritto grandi poi corre a chiarire era solo rivolto a un momento conviviale di un gruppo di ragazzi che conosco tutto questo è successo a ostravetere siamo vicino a senigallia è un tentativo dice però questo consigliere fatto ad hoc per strumentalità strumentalizzare un errore politico in vista del ballottaggio il ballottaggio a cui abbiamo fatto riferimento prima da fano invece di gestore oggi la consegna dello studio in programma l'incontro tra il presidente dell'ase paolo reginelli ed il sindaco massimo seri le ipotesi sono bellocchi falcinetto e monteschiantello nella notte invece si è lavorato alla vasca di accumulo dell'arzilla per quanto riguarda le altre opere qui sotto invece a guzzi porte aperte in giunta vitri minardi ancora polemiche dunque ci sono ancora porte aperte in giunta per stefano guzzi come dicevamo prima l'ex sindaco di fanno attuale primo cittadino di collega al metauro che nonostante le sue 3500 preferenze non è stato eletto in consiglio regionale si parla di un incontro a breve tra il diretto interessato il presidente francesco acquaroli che proprio ieri ha parlato di coinvolgimento anche di quei candidati che non sono stati eletti mentre è certo come dicevamo sicuro l'assessorato un assessorato per il leghista fanese mirco carloni mentre il centro sinistra a fanno dovrà partire da un'analisi delle regioni della sconfitta dove il pd a fanno non è più il primo partito della città perché adesso il primato è della lega e l'ex consigliere regionale renato claudio minardi del pd non è stato rieletto come sappiamo in consiglio regionale e proprio a lui si rivolge la consigliera micaela vitri con 5786 preferenze è arrivata seconda conquistandosi il seggio in regione e micaela vitri manda dire anzi dice attraverso il giornale a minardi minardi faccia autocritica e si chieda perché dopo cinque anni in consiglio regionale non ha raggiunto i 10 mila voti di biancana e poi dice anche altre cose in carico per l'interquartieri rendering per le assemblee la giunta prevede di fanno prevede una serie di incontri per spiegare i vantaggi dell'opera il collegamento con le opere compensative consentirebbe di liberare fanno dal traffico la denuncia di santorelli ci costa 11 mila euro rimborsate a serie le spese legali dell'indagine scaturita dalle accuse che poi sono sono rivelate infondate aggredito con una pietra scena sciocca bellocchi di fanno siamo sul carlino stando a quanto emerso la lite sarebbe stata innescata dall'intervento della vittima in difesa del figlio la discussione legata forse a dissidi del lavoro nel lavoro è accaduto davanti a decine di passanti sul posto gli agenti del commissariato e poi i soccorsi in città invece sempre a fanno è operativa una nuova casa di riposo dal primo ottobre potrà accogliere alcuni pazienti in più un'occasione anche per creare altri posti di lavoro si tratta di una rsa che è pronta con il suo progetto in via malvezzi numero 11 poi sul carlino troverete anche la notizia dei buoni spese alle famiglie più bisognose per l'acquisto di materiale scolastico un soccorso per le tante situazioni di povertà presenti sul territorio a fanno ancora palatrave pronto a novembre coinvolgeremo 400 pallavolisti le previsioni della virtus sull'uso dell'impianto costato quasi mezzo milione di euro e ancora dai quotidiani un libro rilancia l'ipotesi di raffaello attivo a fanno domani a san domenico la presentazione dell'opera di dante per mattei e poi l'oasi faunistica del canale salvata dalla siccità aset la rifornita d'acqua non potabile da un pozzo il cibo invece è stato dato dagli ecologisti san terenzio il patrono ieri non l'abbiamo ricordato durante la nostra rubrichetta insomma del mattino all'inizio della rassegna stampa ma ieri da san terenzio il patrono di pesero preghiere davanti al maxi schermo la nostra comunità ha dato prova di forza niente processione e cerimonia più contenuta le parole dell'arcivescovo e lavoro dei volontari per gestire l'afflusso dei fedeli dal vecchio palace lo sguardo sale al cielo si abbatte infatti il tetto nel cantiere di viale dei partigiani si demolisce la copertura dell'hangar ma la prima ma prima c'è la bonifica dell'amianto l'obiettivo per l'assessore belloni è quello di finire i lavori per il 30 giugno 2011 restando a pesero queste sono le tre rotatorie promosse altre invece sono state rimandate diventeranno dunque definitive quelle di loreto largo tre martiri e borgo santa maria problemi invece sulla statale sempre belloni dice la velocità è troppo alta sulla adriatica quando si entra da nord verso la città di pesero da senigallia le mascherine ministeriali sono troppo piccole genitori della scuola elementare di cesanella lanciano l'allarme e dicono indossarle è praticamente impossibile strette limitate sono un peso per gli alunni più grandi fanno male anche al naso e poi i genitori della scuola elementare leopardi che segnalano disagi sanificazione solo con i bidelli siamo stati ancora abbandonati l'intervento dopo la presenza dei seggi per le elezioni comunali professori e personale ata costretti praticamente a fare da soli è arrivato anche il conto dell'incendio ricorderete ad ancona al porto danni per oltre 30 milioni di euro ma l'ex tubinar prova a ripartire a urbino invece la guerra luca fa la guerra alla mafia con i videogiochi però un urbinate di 28 anni con il suo libro spiega il fenomeno della piova ai ragazzi tramite l'animazione volume in versione cartacea e digitale nel 2018 la prima edizione due anni fa nel 2018 ma il testo nacque nasce quando ancora frequentava dice lui frequentavo l'itis mattei e poi se il covid avrà il picco gli studenti torneranno rimarranno a casa i risultati di un'indagine basata su un questionario il 61 per cento degli intervistati in ateneo solo se necessario e ancora dalla valle del metauro viabilità superiamo il ritardo storico il sindaco di cantiano lancia un appello per l'uso del recovery found per rendere a quattro corsie la strada della contessa necessario un accordo però tra marche e umbria per un collegamento veloce da fano a gubbio e perugia fino a roma in quel tratto della flaminia il passaggio all'anas ha già avviato lavori per 15 milioni di euro e ancora dalla val cesano tour di 19 agenzie di viaggio nell'inter nell'itinerario della bellezza da oggi a domenica conf commercio mostra la provincia ai promotori turistici mentre quest'anno sono aumentati i visitatori a pergolas fossombrone sant'angelo e mondavio incidenti nel cantiere intervenga l'ufficio tecnico siamo ancora a mondolfo gli incidenti di percorso per la realizzazione della fibra ottica lucchetti dopo vari problemi adesso però chiede chiarezza questa è la prima pagina invece del quotidiano sportivo dove in primo piano c'è la foto di valentino rossi l'annuncio del campione di motociclismo in petronas almeno un altro anno dunque infinito rossi corre anche il prossimo anno corre anche nel 2021 e poi le notizie locali le andiamo a leggere qua sotto allora per quanto riguarda il calcio alma barbuti il contratto per lui prolungato fino al 2023 vi spesero tensione e tessiore scusate in forse basket vl debutto fissato a quota 200 spettatori ecco il Corriere Adriatico l'esordio infatti per la vl sarà senza biglietti infatti domenica si parte con sassare a vitifrigo a rega arena ci saranno soltanto 329 spettatori potranno entrare 200 persone tra sponsor e consorziati oltre a 129 addetti ai lavori e con questo si chiude qui la nostra rassegna stampa del mattino grazie come sempre per la vostra cortese attenzione vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il telegiornale e vi auguro buona giornata arrivederci Grazie a tutti